Salve, sono Angela della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare un tronco SIP con Eutele Avoi. Buona visione! Innanzitutto accediamo al sito clouditaliaorchestra.com e andiamo a registrare un nuovo account. Accediamo quindi a FreePBX, andiamo in Fasci e aggiungiamo un nuovo fascio SIP. Inseriamo il nome del tronco che coincide con il numero di telefono, quindi quello appena registrato, e andiamo a settare le impostazioni in uscita e in entrata. Per le impostazioni in uscita andiamo a inserire il nome del tronco, quindi SIP- il numero di telefono, e a definire i dettagli PIR, quindi a inserire qui la password ricevuta da Eutelia. Nelle impostazioni in entrata andiamo a definire il contesto utente, quindi il numero di telefono, e i dettagli dell'utente, inserendo anche qui la password e l'indirizzo IP esterno del centralino. Andiamo a settare la stringa di registrazione e salviamo le impostazioni. Grazie. 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 Grazie.